NY Factory Io insomma non male Ma non mi piace questo fatto delle mascherine In classe preferivo una volta La vecchia scuola ovviamente ci si divertiva Di pionchi con i compagni adesso Con il fatto del distanziamento Ovviamente però dobbiamo fare quello che ci dice Il governo ovviamente non possiamo decidere Da noi però ragazzi lasciamo stare Questo argomento e andiamo quindi A focalizzarci Su Fortnite ragazzi Esatto oggi quindi finalmente Sono tornato in questo video ovviamente In questi 4 giorni di mia assenza Sul canale In realtà non ci sono state tantissime news Le news principali sono state mi pare il 17 O addirittura il 16 No il 17 E perché appunto hanno fatto vedere La Playstation 5 Tutti i prezzi ovviamente la Playstation 5 Col disco va intorno ai 500 euro Mentre quella senza disco Quindi in digitale ai 400 euro Devo dire che i prezzi Non sono né troppo alti né troppo bassi Secondo me sono giusti Non sono troppo alti Mi aspettavo veramente una 600 euro Però in realtà Sony Si è mantenuta abbastanza bassa E quindi ci può anche stare Ok se era di nuovo fatto il microfono Bene lasciamo stare Comunque Come stavo dicendo quindi I prezzi sono stati giusti Secondo me Ovviamente scrivetemi sempre qua sotto Nei commenti Che cosa ne pensate di nuovi prezzi Appunto parlando di Fortnite Andiamo a vedere questo trailer Molto molto interessante ragazzi Che appunto presenta Fortnite Con la nuova grafica della Playstation 5 Comunque bellissimo Ovviamente ho levato la musica Perché non sapevo Se fosse copriattato o meno Quindi nel dubbio Io l'ho tolta Guardate ragazzi Tutto il fuoco delle armi Guardate i personaggi Quando muoiono Tipo si sgretolano Bellissimo La Renegade Che fa tutto il fuoco Guardate il fumo del lanciarazzi Tutto con il nuovo Jug Jug Che appunto Fa tutta quella nuova roba là Vedete Coming to Playstation 5 Available Outlaunch Quindi Ragazzi Veramente tanta tanta roba Appunto La cosa che mi è piaciuta di più È stato il falò Il Jug Jug Che molto probabilmente A questo punto Tornrà Perché per farlo vedere al gioco Le nuvole volumetriche Che già ne avevamo parlato Ovviamente Tutta la Renegade Vedete Sarà anche in altre skin Vedete Anche proprio le esplosioni Mi piace moltissimo Anche mi piace Questo sistema Il fuoco Vedete È molto molto ben fatto Il lanciarazzi Ragazzi È la cosa che amo di più Vedete Il falò Mi piace proprio Quello che brucia il fuoco È un po' Tutto quello Che riguarda quindi Questo elemento Mi piace veramente tanto Si sono Veramente Al massimo Mi sono sforzati Devo essere Sono veramente Quindi Andro per chi Non mi Diciamo Non vuole spendere 500 euro Soltanto per una RTX Magari con 500 euro Alla Playstation 5 E Ha magari tutti i giochi Ha concluso Fortinet Magari ha una grafica Bella Non è forse Uguale A quella dell'RTX Però ci si avvicina Quindi Alla fin fine Se volete una grafica Anche ottimale Su una console Ovviamente Vi consiglio di prendere La Playstation 5 Perché la Playstation 5 Costa quanto Una scheda grafica Quindi GG Parlando quindi Di RTX Ragazzi Finalmente È stata rilasciata Già avevo detto Che doveva essere rilasciata Ed è stato quindi Effettivamente così Già quindi Voi potete utilizzare L'RTX Se ovviamente Disponete di un computer Che ha montato Questa scheda grafica Ovviamente Se non l'avete Non potete attivare Queste impostazioni Direttamente da Fortnite Ovviamente È disponibile Per la 2060 Ti 2070 E ovviamente Sarà anche disponibile Per la 3080 Che è tanta tanta roba Ragazzi Io vi ripeto Come vi ho detto In alcuni video Sinceramente La grafica ottimale Non è mai interessata Nel giochio Io spunto Più gli FPS Perché voglio giocare Sempre più fluido Ovviamente ragazzi Anche se comunque Un'RTX Più grafica Sofisticata Avrete Quindi sarà più alta La grafica Più i vostri FPS Dimiliranno Ovviamente Se avete un computer Davvero troppo potente Quindi che magari Riesce a reggere Un 300 FPS Con una grafica Super altissima Che non può andare Praticamente Oltre quello Ovviamente Dovete avere Un buon computer Più di addirittura 2000€ Perché effettivamente Reggere tanti FPS Con una grafica Al massimo È veramente tanta roba Quindi vi ripeto Che sinceramente L'RTX Non mi interessa Più di tanto Magari Con la PS5 Un po' di più Perché gioco ad altri titoli Ad esempio Ryzen Che vorrei acquistare E Crash Bandicoot It's About Time E poi Ratchet e Clank Rift Da parte Che Io in realtà Non ho giocato A quelli I primi tre Però mi sono sempre piaciuti Però non l'ho mai giocato Quindi vorrei giocare Queste Queste nuove Diciamo In moderni Giochi Che sono stati inseriti Questo ragazzi È quindi Il PlayStation Plus Il nuovo pacchetto PlayStation Plus Che è disponibile Appunto Soltanto Per i possessori Di PlayStation Plus Quindi Chi ha un abbonamento Attivo PlayStation Plus Sul proprio account PlayStation Può Acquistare Creditamente Questo pacchetto Che contiene appunto Un emoji E appunto Della skin Che c'era stata presentata Prima con PlayStation Plus Lo strumento di raccolta Ovviamente blu Uno standardo È una mimetica Per reali Sempre blu In questo stile Freccia Freccetta Insomma Molto molto carino Devo dirvi Che è molto molto bello Questo bundle Ci può stare Ovviamente ragazzi Come saprete Il PlayStation Plus Costa Quindi Non è una cosa gratis Ebbensì Ovviamente Dovete È una specie No una specie È un abbonamento Appunto Che vi permette Di prendere Anche alcuni giochi Gratis ogni mese Poi ovviamente C'è tutto un discorso Dietro Ma informatevi meglio Perché ci vorrebbe Un video Veramente grande E quindi ragazzi Queste erano Le principali novità Di questa Quindi di questi Ultimi quattro giorni Ah un'altra cosa Ragazzi Che mi stavo dimenticando Per quanto riguarda La patch 14.20 La 14.20 Ragazzi Già è stata testata Ma parecchie E parecchie volte Forse per il fatto Della RTX Sinceramente Questo non lo so Però È stata forse Testata Un sacco di volte E potremmo averla Già la prossima settimana Se non l'abbiamo La prossima settimana L'avremo Sicuramente La prossima ancora Non penso Ci faranno aspettare Ancora Anche perché Forse può uscire Qualche leaks Di Halloween Non lo so ragazzi Non lo so davvero Un'altra cosa ragazzi Interessante Di cui mi ero Scordato a parlarmi Ma adesso ovviamente Chiariamo E ragazzi Per quanto riguarda Sempre la grafica Che in questi giorni Epic Games Ci sta andando Veramente Forte Con questa grafica È appunto Quello che riguarda La grafica Su PlayStation 4 Non lo so Xbox One Sinceramente perché Non possiedo Questa console Però su PlayStation 4 Ho notato Questa cosa In pratica Se voi andate Sulle impostazioni Con la vostra PlayStation 4 Andate quindi Su grafica Dove c'è Mi pare Il vostro FPS Mi sembra che sotto Proprio esattamente sotto C'è Texture avanzato Una cosa del genere Comunque Che è solo O no O sì Io ovviamente L'ho disabilitato Perché già che la PlayStation Fa degli FPS Rigidissimi Quindi ho detto Magari non Non aumentiamo La grafica Insomma Quindi magari A quanto pare Hanno fatto anche Un minimo Con la PlayStation Ci può anche stare Perché magari Per non far sentire Minori Quelli che magari Non hanno l'RTX O cose Forse l'hanno fatto Non lo so perché Però ci può stare Ho notato anche Ragazzi Negli alberi Negli alberi È molto molto Sofisticato Il nuovo metodo Perché Negli alberi A quanto pare Ci sono adesso Degli Tipo Delle specie di scave Adesso Gli alberi Sembrano anche Più naturali E quindi Ci sta tanta tanta roba Mi piace Come l'hanno L'hanno sistemato Un pochettino L'hanno sistemato Qualcosa anche Delle rocce bagnate Tipo ad esempio A cara con l'allina Dove appunto Ci sono queste rocce Bagnate Che appunto Dall'acqua Che cade E ci sta ragazzi È un effetto Molto molto più bello Adesso ci sono le farfalle In giro per la mappa Ovviamente sono effetti In 2D quasi Però insomma Ci sono questi effetti Come insomma Quelle delle luccele verdi Per chiarirci Ci sta ragazzi Questi piccoli effetti Però fanno la differenza Anche su console Che tra l'altro Sembrava essere appunto Non troppo sofisticata Però Per non farci sentire Ecco inferiori A quelle dell'RTX Ovviamente È tutto molto ironico E ovviamente Ci hanno dato Anche questa possibilità A noi da console Ovviamente Vi ripeto Da Xbox One E da Switch Con tutto chi vuole Switch Sinceramente Non so neanche Se c'è questa Questa cosa Ma credo proprio di no Perché su Switch Già la grafica È abbastanza rigida Pure lì Comunque ragazzi Speriamo che il video Quindi vi sia piaciuto Noi ci rivediamo quindi A un prossimo video Speriamo che il video